Buongiorno, good morning Milano, good morning Milano, come state? Tutto bene? Tutto bene qui come sempre alle 7 del mattino, 7.08 quest'oggi, venerdì 15 settembre, ultimo giorno della settimana e siamo pronti a partire. Sono in attesa del mio compagno di avventura Lorenzo Masieri che sta arrivando qui in studio anche lui e io sono qua già pronto a darvi un po' tutte le informazioni che vi serviranno questa mattina. 331-78-53555, questo qui è il numero di Whatsapp, il primo punto saldo della nostra trasmissione è il nostro numero di Whatsapp. 331-78-53555, potete scriverci, potete mandarci messaggi, video, audio, foto, anche messaggi audio che poi possiamo anche farli sentire ai nostri ascoltatori. Allora voi cosa state facendo, dove siete, come state andando? La scuola ormai è iniziata, quindi tutti in giro nel traffico milanese cercando di trovare il giusto posto in cui ubicarsi e poi anche sui tram per andare chi al lavoro, chi a fare le ultime cose prima dell'università che inizierà a breve. Ma so che qualcuno c'è già degli esami, ancora gli esami della sessione, credo sia ancora la sessione estiva, che sia una sorta di coda lunga dell'estate universitaria, estate che è stata contraddistinta soprattutto dalla musica, queste state i soliti tormentoni estivi, come sempre tanti tormentoni, come sempre ce li portiamo avanti almeno almeno fino ad ottobre. Ma per adesso ascoltiamo ancora i The Colors. Allora tutti i giornali ovviamente questa mattina stanno aprendo con la notizia del giorno effettivamente, perché non è ovviamente strettamente milanese, ha a che fare con la bergamasca, ha a che fare con il covid, ma tutti, tutti i giornali, compreso appunto la Repubblica Milano ad esempio in questo momento, stanno aprendo con quello. Cos'è la notizia? Beh, per l'istituto Mario Negri le forme più gravi e la strage nella bergamasca sono dovute al gene Neandertal. Cosa significa? Significa che hanno ritrovato questo gene, appunto il gene Neandertal, nel DNA delle persone che hanno contratto il covid, sia che poi ha portato anche appunto a tantissimi decessi, ma anche poi a quelli che sono riusciti a guarire, e ha trovato che soprattutto nelle valli bergamasche, nelle zone di Nembro, Albino e Alzano Lombardo, l'incidenza del covid con le persone che hanno questo gene Neandertal è molto 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 più alta rispetto ad altre zone dove questo gene non si ritrova nella popolazione. E quindi si cerca di dare una risposta un po', adesso bisogna capire se e quanto questa è una risposta anche alla, e lo sappiamo, mala gestione di quello che è successo in quei giorni. Però in realtà dal punto di vista scientifico e medico aiuterebbe tantissimo a capire come mai in alcune zone del pianeta si hanno avuto dei picchi di contagi molto molto alti, e a differenza magari di altri, e come fare magari anche a combattere in futuro altri SARS, altri SARS covid, altri virus SARS, che comunque sappiamo essere esistenti e ci sono. Quindi insomma è una scoperta di quelle importanti, ovviamente tutti i giornali ne stanno ovviamente parlando. Poi, 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 poi chiuso da cercare, ah è tornato ancora Valanzasca, Valanzasca ancora sulle prime pagine dei giornali di questa mattina, Renato Valanzasca non può restare in cella, è malato, così dicono gli avvocati, così dicono i suoi medici, e appunto quindi il caso adesso arriva in Cassazione. Vero è che insomma tante altre volte Valanzasca si è finto malato in alcune situazioni, è riuscito a scappare in altre, anche se stava veramente, anche se veramente era malato, è riuscito a fuggire dal carcere altre volte, e quindi immagino insomma le precauzioni e anche la difficoltà a volte nel fidarsi del soggetto, però insomma è giusto anche che venga appunto appurato se realmente o no una persona può rimanere o no in carcere al netto di tutto quello che ha fatto, insomma ricordiamo che non stiamo parlando sicuramente di un angioletto, anzi stiamo parlando di qualcuno che non si è mai, da quanto mi sembra, pentito della sua vita e storia criminale, quasi anzi ad andarne fiero. Vero è che anche noi giornalisti ogni tanto dipingiamo queste realtà e queste vite al limite di alcuni personaggi, insomma in maniera un po' troppo romanzata, e quindi forse sarebbe anche nostro dovere cercare di rimettere i puntini sulle i e dividere davvero il mondo in buoni e cattivi quando è possibile, ovviamente con tutte le sfumature del caso. Crystal Radio ancora qui in diretta, appunto dicevo 7 e 19 minuti sempre in diretta, stiamo guardando un attimo la situazione ATM in questo momento, perché, e chiedo al 33178535555 di darci una mano a chi magari in questo momento è in giro con i mezzi, perché il sito ATM in questo istante sta dando due messaggi discordanti sulla stessa situazione. Allora, da una parte c'è un'allerta che la M1 ha la circolazione interrotta su tutta la linea per un guasto, e che il punto di intervento sta risolvendo in questo momento, dall'altra mi dà stato regolare sulla Metro 1. Allora, sulla Metro 1, adesso poi cercheremo di indagare meglio la situazione, al momento appunto, quindi potrebbero esserci delle difficoltà di circolazione sulla Metropolitana 1 di Milano, le altre linee sembrano regolari senza problemi, adesso cerchiamo di capire meglio che cosa sta succedendo in questa situazione, anzi, facciamo così, linea subito luce verde per il traffico cittadino, e poi torniamo con l'informazione meglio, diciamo, curata su ATM e la linea 1 che in questo momento sembrerebbe appunto interrotta. E allora, 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 siamo collegati con il Twitter proprio di ATM Milano, e al momento sembrerebbe effettivamente che la M1 abbia un guasto e sia ferma su tutta la linea, adesso poi chiediamo appunto a chi magari è in giro di darci qualche delicitazione in più, in compenso, ricordiamo che il tram 9 invece, per problemi di maltempo, i danni dovuti alle famose cadute di alberi, è deviato, il tram 9, in entrambe le direzioni appunto devia da Repubblica M3 a via Galvani-Filzi, e il tram 10, anch'esso in entrambe le direzioni, devia da Viale Montessanto a via Fulvio-Testi-Galvani. Quindi, niente, questa è la situazione in questo momento in diretta della situazione del trasporto pubblico appunto milanese, ancora qui sì su ATM si dà ancora l'allarme sulla M1, ma credo che stia tornando appunto in questi istanti tutto quanto regolare. Ancora quindi qui in diretta con voi, con la vostra compagnia, grazie anzi a tutti quanti che state lì a seguirci al 331-78-5355. Ci state raccontando un po' quello che state facendo, tanti WhatsApp che arrivano ad augurarci una buona giornata, buongiorno anche a voi, buongiorno Fabio, buongiorno anche a Giulia che ci scrive che ha appena portato la bimba a scuola e ci sta ascoltando, no, sta portando, scusami, ma un po' presto perché ho portato già la bimba a scuola, sta portando la bimba a scuola e ci sta ascoltando. Continuate anche voi quindi ad ascoltarci, continuate a scriverci al 331-78-5355. Casi in affitto, caro affitto, costi troppo, non so dove andare. Questo potrebbe essere il titolo che Corriere della Sera Milano mette in prima pagina qui nella pagina che stiamo guardando. Perché? Perché ci sta raccontando l'odissea di Marco Consoli, che è un cinquantenne con una figlia di otto anni, separato, partita IVA, lavora, insomma, cerca comunque una casa a Milano e nessuno non lo vuole come inquilino. Non c'ha abbastanza credenziali da quanto sembrerebbe. Perché? Perché la pagina IVA porta con sé tutti i suoi rischi e quindi nessuno lo vuole. Poi è un cinquantenne con una figlia di otto anni, insomma, una situazione abbastanza complicata e non sa come fare. Dice che ormai un bilocale a Milano sotto i 1200 euro fa fatica a trovarlo, non si trova niente, ma soprattutto racconta la frustrazione che ormai sente ogni qualvolta appunto gli viene detto che non va bene perché non hai abbastanza credenziali. Il caro Marco è un collega giornalista, lavora per varie testate anche, abbastanza importanti, nazionali, no? La stampa, Repubblica, anche Focus, quando si dice l'ho letto su Focus, no? Ecco. E niente, tutto questo non basta, tutto questo non basta. E quindi, niente, non riesce a trovare una casa in affitto perché nessuno lo vuole come inquilino perché non ha le credenziali. E allora quando non c'è le credenziali non va bene, e quando però non c'è i soldi non va bene, e quando c'è i soldi non va bene perché non c'è le credenziali. E quando trovi la casa non va bene perché costa 4000 euro al mese, anzi al giorno ormai, siamo arrivati a queste cifre. Insomma, è veramente, veramente complicato. Grazie mille ad Alberto che si è collegato con noi adesso, ci dà un'indicazione che abbiamo già dato, ma Alberto grazie per ricordarla e la ricordo in diretta anche adesso. Ricordiamo che la metro 1, la linea 1 della metropolitana è completamente sospesa in tutte le direzioni, in tutti i rami, quindi sia Bisceglie, sia Roffiera, sia dall'altra parte, verso Sesto San Giovanni, quindi Sesto Fs, giusto? Scusate, donate un lapsus. Quindi M1 sospesa, trovatevi un'alternativa. Non so qual... Ditemi, se volete potete scriverci al 3317853555, ci dite punto di partenza, punto d'arrivo, e noi vi calcoliamo il percorso alternativo. L'alternativa, invece, è la musica qui su Crystal Radio e l'ascoltiamo insieme alle 7.33 minuti, sempre insieme, sempre qui, punto, su Crystal Radio FM 96.2, DAB Plus della vostra autoradio e anche nei vostri smartphone con la app di iOS e Android e volendo poi, come sempre ve lo dico, in ufficio con il sito internet che potete aprirvi e iconizzare per non farvi beccare mentre ci ascoltate tutta la mattina. Calmi, calmi che siamo ancora in fascia protretta qua, state calmi, here we go, qua. 7.39 minuti, Crystal Radio, venerdì 15 settembre, attenzione, abbiamo parlato di M1, di ATM, la chiusa, è stata riaperta. Riaperta la circolazione sulla M1, ma attenzione perché è rallentata, dal stato delle metro di ATM ci arriva la comunicazione che in questo momento la circolazione è rallentata, i treni, in punto, viaggiano con ritardi, ATM dice che ha risolto il problema tecnico che aveva costretto a sospendere la circolazione, però, appunto, rallentamenti, quindi attenzione perché, insomma, si sta un attimino sistemando la situazione. Ecco, attenzione, in questo momento è diventata regolare, quindi sembrerebbe tutto rientrato, poi dopo cercheremo di capire cause ed effetti, effetti, sicuramente un po' di ritardi e ne stiamo vedendo anche noi questa mattina a 1, ma adesso il buon Lorenzo Masieri ci raggiunge, ma soprattutto, appunto, un po' di disagi perché stava andando al lavoro e quindi complicato questa mattina muoversi a Milano e, insomma, per qualche ora ci porteremo dietro sicuramente questi ritardi. Parlando di muoversi a Milano, ricordiamo che Milano esiste anche l'area B e l'area C e dal Corriere della Sera Milano leggiamo che Milano, area B e C fanno il pieno di multe. Crescono anche quelle prediviso di sosta, quindi grande numero di multe, ma ne vengono riscosse meno della metà. Però è un problema se più della metà della gente prende una multa e non si fa problemi a non pagarla. Adesso qui bisogna capire se non si pagano perché non si riesce a pagare multe, che potrebbe benissimo essere un problema perché se devo scegliere tra pagare l'affitto e pagare la multa scelgo ahimè l'affitto anche se poi dopo le cartelle di Equitalia Equitalia non c'è più l'Agenzia delle Entrate, Compagnia Bella e il Comune che ti viene a bustare alla porta vanno avanti per anni però dall'altra bisogna capire se invece non si pagano perché tanto poi non arrivano mai quindi chi se ne importa bisogna capire e il PD avanza per l'ennesima volta anche non è la prima volta che lo avanza sia a livello nazionale hanno fatto che adesso a livello locale l'idea di arrivare a fare le proposte con le multe in base al reddito e alla tipologia di auto è complicata come cosa in alcuni paesi del nord Europa sono già così qualche giorno fa proprio si faceva l'esempio della Svezia dove appunto parrebbe che già c'è questo sistema bisogna vedere bisogna capire se si può fare bisogna capire se si può fare anche penso solo ad esempio un problema di privacy sul fatto di dover esporre il proprio reddito in quel momento bisogna capire come funziona mi immagino che non è così semplice perché ahimè non è neanche semplice chiedere appunto un numero di cellulare a una persona che entra nel tuo negozio per dire ti mando i sconti ecco non è già solo quello diventa drammatico perché devi avere il GDPR e tutto il resto così chissà appunto per fare una cosa del genere però potrebbe essere una soluzione secondo alcuni perché giustamente dice chi ha la macchina grossa chi ha un reddito più alto se io gli faccio pagare 35 euro di multa perché ha messo male la macchina in seconda fila ma lui ne paga 400 di multe senza problemi cioè è come se fosse il ticket del parcheggio è come per noi pagare 1 euro e 20 di ticket del parcheggio e per altri invece quei 35 euro magari fanno differenza a fine mese tra riuscire a mangiare tutti i giorni regolarmente oppure saltare un pasto insomma è una situazione sicuramente non non semplice e non scontata su cui anche qui bisognerebbe smettere di fare barricate e andare pro o contro tu curma insomma cercare magari le soluzioni nelle vie di mezzo nelle sfumature come sempre quando si parla della vita della ciente dei cittadini di Milano Comunque torniamo sull'attualità perché mancano 875 giorni all'inizio delle Olimpiadi la grande Olimpiade del 2026 Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina il buon Masieri in questi giorni ha cercato di parlare con il presidente della regione Nombardia proprio per fare un'intervista sulle Olimpiadi sapete che a quest'ora di solito suggerono cose strane in questo programma e ovviamente anche oggi non poteva essere di meno perché il buon Lorenzo Masieri ha chiamato l'ufficio di presidenza della regione Lombardia almeno così sembrerebbe e non è proprio andata come ci si aspettava ecco so già un piccolo spoiler ma vi faccio ascoltare appunto l'intervista che abbiamo registrato con l'ufficio di presidenza o così tale ma chissà non lo so se è proprio quello lì non lo so non lo so vabbè sentiamo un po' vediamo un po' cosa è successo con Lorenzo Masieri e l'ufficio del presidente Fontana Desidrea Culegas con l'ufficio del presidente della regione Lombardia You're waiting to be connected to the regione Lombardia Desidrea Culegas con l'ufficio del presidente Lombardia Pronto Pronto Ufficio di presidenza della regione Lombardia parla Mimbo Battuccio segretario personale del presidente Fontana mi dica Buongiorno buongiorno Balduccio sono Masieri giornalista di Good Morning Milano Lorenzo Masieri ha chiamato giornalaio Masieri ma chi non c'è fu Masieri no Masieri Masieri non Masini comunque chiamo da Good Morning Milano Good Morning Milano anche a lei Masini cosa posso fare più in me mi dica comunque sempre Masieri Masini è il cantante volevamo parlare con il presidente Fontana della questione Olimpia di 2026 il presidente non può parlare in questo momento è occupato come occupato non può proprio il presidente è impegnato sta simulando scusi in che senso sta simulando cosa sta facendo simulando le olimpiadi alta tecnologia giapponese tiene tutto Masini tiene tutto un viso un gallioc un passuccio da mano sopra simulare tutto sta simulando le olimpiadi ah le olimpiadi sta simulando Presidente Presidente bravissimo sta simulando perfettamente presidente si ricordi che le bandierine grandi sono un gigante e chi le picciritte sono un usalo speciale bravo bravo mi scusi Balduccio mi scusi Balduccio ma cosa significa che sta simulando perché da quello che mi sta dicendo secondo me sta giocando a una console a un gioco delle olimpiadi al massimo altro che simulando ma che gioca c'ho ma che gioca c'ho il presidente sta simulando sta preparando alta tecnologia la conosce la realtà accelerata aumentata simulata che dico chiacciata non possiamo chiamarla visto il tema che dice Balduccio Balduccio il presidente sta giocando ne sono sicuro sicuro Presidente si ricordi che chi l'ha aperto è un slittino e chi l'ha chiuso è un bot bravo quindi noi comunque non possiamo parlare con il presidente non c'è niente da fare Masieri il presidente è occupato sta stipulando come dicevo pochi innanzi è occupato Balduccio chiameremo magari anche domani lei comunque è in turno la troviamo in turno c'è Tomasini sempre qui per sentirla ci mancherete sarebbe Masieri però vabbè ci sentiremo domani ed eccoci tornati in diretta 8 e 09 minuti e la metropolitana milanese ha rilasciato finalmente il buon Lorenzo Masieri qui al mio fianco ciao buongiorno buongiorno a tutti caos eccoci grande caos io sto bevendo un caffè invece racconta qualcosa posso dire grazie a Irga che mi ha portato il ginseng ecco che me lo sta ascoltando che non l'ha sentito vabbè lo saprà nel suo cuore lo saprà ho ricordato a Fabio cosa vuol dire fare la radio la mattina presto dalle 7 alle 8 tanto che adesso si sta facendo un bel cafferino diciamo che fa fatica il doppio forse anche il triplo però però va bene va bene va bene e niente adesso abbiamo gli ultimi 50 minuti eh sì siamo qui siamo qui abbiamo mandato la tua intervista con o meno tentata intervista con il presidente Fontana ho visto che è andata in maniera un po' strana questo balduccio diciamo che mi hanno messo i bastoni fra le ruote so che lunedì lo risentiremo però sì sì ma ho questa impressione che lo sentiremo tante tante troppe volte mimo balduccio bene bene staremo a vedere 33178535555 il numero di whatsapp a cui potete scriverci cosa ne pensi di questa notizia che sto leggendo su Cotone Milano l'ho vista proprio adesso che i vigili urbani di Milano avranno lo spray urticante tra parentesi uno di quei più forti quello appunto al peperoncino che sarà anche più forte del peperoncino Carolina Ripper non so i gradi di piccantezza no ma la domanda non è se non è che le migliori è quanto sulla bomboletta sai che io sono molto sensibile al tema sicurezza se viene usato come qui non siamo d'accordo se viene usato con parsimonia e come deterrente finché non ci sono degli episodi che mi fanno dire ok è una cosa che può può essere sfruttata diciamo non me la sento di affossare il vigile urbano dovrebbe essere amico del cittadino ho capito mi ricordo quando ero bambino c'era il vigile amico venivano a scuola ti insegnavano ad andare in bicicletta no ti insegnavano queste cose stradali ti davano la medaglia a serie bravo queste cose qua ed era bello io quando vedevo un vigile urbano per strada ero contento mi sentivo anche sicuro ero contento tra l'altro io lo chiamo ancora vigile urbano questa roba di polizia municipale che spara e va in giro a prendere i ladri i vigili urbani debbano fare altro cioè proprio secondo me è sbagliato abbiamo polizia locale non è che era così sono problemi di quello che lo sbaglio la polizia i carabinieri la guardia di finanza l'esercito se facciamo affare a tutto tutti non si capisce niente infatti stiamo parlando di spray urticante non stiamo parlando di però la pistola ce l'hanno si ho capito però il spray urticante in manganello e sono vestiti come rambo ogni tanto per non parlare poi dell'assurdità più assurdità di Milano e chi ascolta lo sa che sono i vigilantes di ATM non sono cosa vuoi dire e sono vestiti anche loro che sembrano che sono usciti da un film che però sono a metà perché sono anche catani frangenti dietro e quindi sono a metà tra i stradali da una parte e il rambo dall'altra che quindi fa anche ridere cioè secondo me è quello il problema io non sono sono da quello con te che la sicurezza ci vuole e ci vuole anche quello che se serve spara arrivo a dire anche arrivo anche a dire questo se serve quindi se serve lancia lo sparticante se serve ti dà la manganellata per fare stare il buono ma non possono essere tutti così assolutamente vero quello cioè ci vuole una forza più bassa più leve una forza più media diciamo e quella poi perché se no l'esercito cosa fanno in giro con i razzi atomici poi tra virgolette tra molte virgolette armare tutte appunto queste categorie fare da deterrente sì è una soluzione strutturale no è quella è quella perché poi in realtà abbiamo visto che lo fanno anche poi così tanto da deterrente perché poi abbiamo visto che tanto l'ubriaco non se ne accorge neanche se tu c'hai o non c'hai il manganello o la bomboletta spray e rischi solo di fare danni all'ubriaco che magari un giorno è data male all'agente intorno e anche mi viene da dire anche all'operatore di polizia che comunque quando ha iniziato il suo lavoro non doveva fare quella roba lì l'anno speriamo perché io mi metto questo infatti vorrei chiedere ai sindacati cosa ne pensano di questo formato in teoria però insomma è una situazione secondo me un po' complicata so che non è molti non sono d'accordo con me su questo ragionamento anzi vogliono sempre di più armare però la mia paura che poi si dimenti come ai Stati Uniti dove veramente prima di scegliere una macchina che ti fermano semplicemente perché andavi un po' veloce hai paura che ti sparino o ti massacchino la famiglia avrei un po' di dubbi beh c'è tanta strada ecco per arrivare in una situazione del genere ma sai che siamo bravi a fare queste strade no e vabbè vabbè comunque cara Italia che dirti noi siamo qua e dobbiamo volerti bene così no e lo dice anche Gali infatti lo dice anche lui allora ascoltiamolo 8 e 14 minuti Crystal Radio Gali cara Italia 7 e 18 minuti venerdì 15 settembre queste le coordinate una notte quella appena passata all'insegna delle bombe d'acqua dei funni dei tuoni tremavano le finestre sì ma tanto mi ha appena detto che tu hai dormito beatamente io faccio tremare le finestre tutte le sere con il mio russare quindi ci mancherebbe io non riuscivo ad andare oltre 5 minuti di sonno che veniva giù una bomba così con un tuono fortissimo ma si stanno facendo i conti di quello che è successo stanotte perché sono venuti un po' di disastri non come il 28 luglio per fortuna ma allora Nubi Fraggio che ha fatto esondare il Seveso stanotte quindi in tutta la zona di Fabio Filzi Fulvio Testi è incasinata invece in Fabio Filzi è caduto un albero e infatti linee 9 e 10 del tram sono sospese nel tratto centrale e hanno i boost sostitutivi ha lagato il sottopasso di via Negrotto e ovviamente protezione civile in allerta per monitorare i fiumi tra parentesi allerta giallo o arancio dipende dai siti in cui trovi la notizia che ogni tanto io non capisco come fare comunque dalle 2 di oggi pomeriggio per ulteriori precipitazioni quindi insomma insomma vedere come andrà avanti la giornata secondo te Fabio il famoso ET alert di cui parleremo noi e di cui stiamo già parlando tutti in situazioni del genere io spero che non lo usino perché sennò diventa una roba che utilizza ogni 3x2 no siamo da il ET alert lo usi terremoto emergenza sanitaria emergenza sanitaria il missile Putin ci lancia un missile una cosa del genere anche il 28 luglio che citavi forse il 28 ma in realtà lì non puoi usarlo prima perché il problema è lì come fai a usarlo prima c'è un allarme ma non sai cosa succederà e poi a questo punto bisogna capire se sarà sempre utilizzato a livello regionale oppure se potranno scalarlo poi a livello più locale bisogna capire questa cosa qua perché adesso la prova del 19 di settembre martedì a mezzogiorno ricordiamo sarà regionale la prova quindi tutta la regione lombardia dovremmo ricevere tra parentesi qualcuno ieri ha già ricevuto il messaggino perché c'erano le prove in Piemonte e quindi nella zona ovest quindi qui vicino al Ticino così qualcuno ha ricevuto già il messaggino c'è scritto test quindi si capisce subito che non è un grosso problema però appunto c'è stata questa cosa qua il 19 di settembre a mezzogiorno verrà fatto questa prova qui e noi seguiremo in diretta l'evento cercheremo di seguire in diretta questo importante evento piccolo noto di colore in Giappone ho provato il JP non so si chiama JP alert si chiama l'alert giapponese se entri nel territorio giapponese appunto i 6 sotto la rete giapponese ti possono arrivare questi alert sia la scorsa volta che sono stato sia questa volta scorsa volta terremoto è arrivato subito l'alert che diceva che era tutto anzi ecco lì arriva l'alert dopo per dirti tranquillo tutto a posto non c'è bisogno di andare nelle zone di concentramento che hanno già prenoto sui piani di evacuazione delle città quest'altra volta invece è arrivata la nostra amica perché noi eravamo già partiti per fortuna perché mi sarebbe venuto un colpo tre di notte messaggino evacuare immediatamente la casa andare nelle stazioni della metropolitana sotterranea perché la Corea aveva lanciato un missile per un test balistico loro la Corea del Nord ovviamente e quindi alert dopo di che dopo un quarto d'ora avranno fatti i calcoli col gognometro per capire dove andava il missile hanno capito che non era un problema e quindi va bene tutto però pensa all'etra di notte di trovare alert missile coreano su Tokyo mi spravventerei però funziona infatti c'era la gente che stava già provando ottimo sistema assurdo che non abbiamo implementato in qualche maniera fino ad adesso soprattutto vabbè credo ci sia di mezzo l'Europa che abbia spinto per fare in modo che si faccia questo tipo non ci fosse stato il covid secondo me una roba del genere non l'avremmo mai fatto ma va ma va ma va ma va ma va blues brothers ballate in mezzo alla strada non so se ricordate il film quando appunto i due fratelli blues vanno al negozio a cercare di comprare la strumentazione per rimettere insieme la banda e appunto Ray Charles li accoglie con questa canzone e fa ballare tutto il vicinato quindi mi auguro che anche voi abbiate ballato insieme a noi abbiate mossole anche in modo da incominciare bene la giornata tutti quanti insieme ogni volta che mi capita di sentire una canzone dei blues brothers mi viene voglia di rivedere il film che ogni tempo chiudi tutto non so se c'è su netflix chiudi tutto chi sa se ci sono da qualche dove sono quei film i blues brothers disney plus secondo me non lo so non ho idea oppure su infinity ma io ho una cassetta se non sbaglio io ho il dvd ho il dvd non ho un lettore dvd ma ho il dvd ieri io mi sono accorto di avere dei blu ray e non avere il lettore dvd no perché avevo la playstation però adesso in tema di film io ho una tradizione tutti gli anni nel periodo pasquale guardo jesus christ superstar no e vado in giro a cantarlo per tutta la redazione lo sapete insomma l'avete visto anni fa mi sono comprato il dvd appunto per vederlo questa pasqua mi sono accorto che non ce l'avevo quindi ho dovuto comprarlo su prime video allora ma c'è qualcuno che veramente nei servizi streaming compra eccomi ok non pensavo io ho comprato tutta la non trilogia sono sette film di harry potter su su itunes all'epoca però si può vedere ancora adesso e si su prime ho dovuto comprarmi per forza jesus christ superstar che anche lì poi non so come funziona io l'ho comprato e è mia vita no non credo è una questione di noleggio no perché c'è anche il noleggio che dura qualche giorno questo qui lo comprate dura in teoria vita ma se questi poi perdono i diritti come sono che mettono pongono roba è vero che vabbè il noleggio costasse come forse il noleggio di una vx da blockbuster per un giorno una volta quindi insomma i prezzi sono abbastanza bassi ti sorprenderò ma io andavo spesso da piccolo piccolo e un po' me lo ricordo da blockbuster in piazza caneva eh vabbè adesso la toponomastica milanese non la sapevo era più vicino a casa tua era più vicino alla bovisa credo fosse con il piazza caneva a meno che per un periodo c'è stato forse uno con il piazza bausa non sono sicurissimo non credo credo che fossero andassi dalle piazza caneva o da quelle parti lì e sì questa sarà la nostra sigla per tutto il nostro prossimo trimestre fino a Natale in realtà quindi un trimestre largo diciamo che ci darà appunto la chiusura della nostra smissione come sempre ricordatevi che noi siamo qui tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 in diretta su Cristal Radio 96.2 FM da Plus sito app e se ci volete vedere anche anche se non siamo un bello spettacolo soprattutto di mattina parla per me ti è piaciuta questa? non me lo aspettavo soprattutto di mattina sul sito di Milano News e sì sempre qui in diretta appunto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e allora noi questa volta però dobbiamo un appuntamento invece a lunedì perché insomma in weekend ci riposiamo ma non è vero non ci riposiamo così tanto perché sabato e domenica alla festa di Cisano Boscone potete trovare lo stand di Cristiano Radio in diretta tutti i pomeriggi sabato e domenica ciao andiamo è finita è finita per questa settimana è finita per tutto ci vediamo lunedì e grazie mille buon weekend a tutti settimana prossima torniamo più belli che mai più bravi più bravi più bravi ciao a tutti ciao ciao buon weekend